alla libreria volare che continua a volare alto tanti auguri buon compleanno buon compleanno la libreria volare da alessandro barbera via volare buon compleanno di cuore o dei ricordi meravigliosi di quando sono venuta a trovare e spero di tornare presto piccolo saluto la libreria volare per i 25 anni e io dirò soltanto lunga vita la libreria volare buon compleanno amici della libreria volare come sono contenta di poter partecipare anche se solo così virtualmente da lontano però sono lì con voi col mio cuore viva le librerie che viva la libreria volare buon compleanno alla libreria volare grande augurio alla libreria per la sua attività molto ricca e la speranza davvero che possa continuare a svolgere questo delicato prezioso compito con l'aiuto di tanti e fra i tanti spero di esserci anche io cioè di poter dare anch'io il mio contributo grazie volevo augurare tanti tanti auguri alla libreria volare a gina e a marco per i loro 25 anni di attività un abbraccio enorme speriamo di vederci presto tanti auguri libreria volare tanti tanti auguri veramente per questi 25 anni evviva gina evviva marco i librai che ti fanno volare amici librai auguri e ancora auguri di volare sempre più in alto e di farci volare insieme a voi e allora adesso per altri 25 anni almeno non ci resta che volare entrare dentro e uscire con un libro anche due auguri auguri alla libreria volare auguri a gina e marco buon 25esimo compleanno alla libreria volare a tutti i suoi lettori da giuseppe catozella tanti auguri alla libreria volare soprattutto alla vola femmine vi faccio con tanto affetto scendendo una crosa dei mahi tanti auguri alla libreria volare per i suoi 25 anni 25 anni un quarto di secolo meraviglioso e mi raccomando comprate sempre dai libri indipendenti e soprattutto da volare che è una delle più belle librerie che ci sono in piemonte forse in italia anzi nel mondo 25 anni parlano di un notevole passato ma il mio augurio di un grande lunghissimo bellissimo futuro volo lungo 25 anni per un quarto di secolo siete stati un presidio di cultura e quindi di democrazia tanti auguri a volare per un altro quarto di secolo la libreria volare è un posto magico dove secondo me si respira la parte più bella della cultura io ho trascorso dei momenti davvero indimenticabili presentazioni magiche e soprattutto ho conosciuto incontrato e ho potuto approfondire delle bellissime amicizie per cui libreria volare tantissimi auguri da sara rattaro cara libreria volare tanti 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 auguri 25 anni non sono pochi vi penso tanto qui dal dall'assolato salento dove sto girando un film che il mio saluto e il mio augurio arrivi fino al piemonte a questa splendida pinerola dove presto verrò a trovarmi spero magari quest'autunno il prossimo turno ancora auguri 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 da l'audiobisio ciao buon compleanno con tutto il mio cuore alla libreria volare una delle librerie più belle sulla faccia della terra grazie perché siete unici auguri libreria volare migliaia e migliaia di questi anni da nadia terranova caro marco e caragina io vi porgo i miei saluti e le mie felicitazioni per questi primi 25 anni della mitica libreria volare tanti tanti auguri alla bella indimenticabile libreria volare vorrei fare gli auguri alla libreria volare per il suo compleanno perché per me è come farle un vecchio amico anzi a un luogo che una rete di persone che per me sono diventate casa quindi davvero grazie per avermi fatto sentire accolto e per avermi festeggiato ogni volta che ci siamo rivisti adesso è ora di festeggiare voi volevo fare tutti i miei auguri alla libreria volare è una libreria che è casa da anni per me per cui sono solo i primi è solo l'inizio davvero tutti i miei migliori auguri buon compleanno lunga vita alla libreria volare il presidio per tutti quelli come noi che amano i libri continuate così mi raccomando buon compleanno alla libreria volare sono ria levi vivo a roma eppure questa libreria da quando l'ho conosciuta mi è rimasta talmente dentro che la sento vicina come se fosse nel mio quartiere quindi doppi auguri e grazie auguri alla libreria volare da gianni oliva per i suoi 25 anni la libreria non è semplicemente un luogo dove si comperano dei libri è un luogo dove i libri si sfogliano dove i libri si annusano dove di libri si parla dove si va ad ascoltare la presentazione del libro la libreria vera è un luogo di cultura è un ambiente e questo la libreria volare lo è da sempre dalla sua origine con fantasia con capacità con relazioni con semplicità con spontaneità buon compleanno libreria volare da gabriele romagnoli auguri libreria volare 25 anni sono tanti e sono meravigliosi tra i regali più belli che mi ha fatto la libreria c'è stato quello di farmi conoscere la merity robinson una volta sono tornata a casa con lila e non ho più abbandonato la robinson me ne sono innamorata come di una scrittrice che parla di dio facendo letteratura è diventato un po il mio faro quindi libreria volare è una libreria dove si entra si presenta il proprio libro si torna innamorati dei libri degli altri è questo che fa una libreria grazie grazie alla libreria e auguri un grande buon compleanno alla libreria volare da giorgio scianna ogni volo che ho fatto con voi è stato un grande volo 25 anni sono un bellissimo traguardo per una libreria la libreria volare di marco egina ha visto negli anni passare classi insegnanti scrittrici scrittori e un numero incalcolabile di bellissimi titoli dunque un augurio affettuoso da parte mia per cento di questi giorni 25 anni di libri sono tanti tanti ne ho comprati e tanti ne ho presentati alla libreria volare quindi grandi auguri a voi e altri 25 a quella scuola speciale di volo a forma di libreria che si chiama libreria volare auguri 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 tanti auguri alla libreria volare è un abbraccio ciao 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 ciao